Buongiorno, sono Alice della Peb Immobiliare e oggi vi parlerò di un immobile situato a San Paolo, in via Leonardo da Vinci. Vi proponiamo un'ampia casa di 110 metri quadri, composta da ingresso, una grande cucina, molto luminosa, dotata di una bella finestra, poi vi sono tre camere matrimoniali, tutte e tre molto grandi e luminose. Un bagno finestrato, un comodo ripostiglio e l'immobile è dotato anche di una cantina. Compra la casa dei tuoi sogni come se fosse un affitto, a soli 740 euro al mese. Se non siete interessati a questo immobile, abbiamo un'offerta per voi. Porta un amico e riceverai un bonus di 5.000 euro. Questa offerta consiste nel portare un vostro amico ad acquistare una casa da noi e voi riceverete in cambio un bonus di 5.000 euro.